Da parte mia c'è sempre stata fiducia nei nostri mezzi, ho sempre pensato che con la giusta energia e con il giusto atteggiamento saremmo riusciti a portare a casa la partita. Il nostro maggior limite è stato quello di dover rimanere concentrati, perché c'erano dei momenti in cui incollavamo avanti anche di 12 punti, quindi potevamo perdere la concentrazione perché uno poteva pensare di aver già vinto e quelli sono stati i momenti in cui loro sono tornati sotto. Però c'è sempre stata molta fiducia e concentrazione, quindi l'aspetto principale per me è stato mantenere l'attenzione sempre al massimo durante tutto l'incontro. Secondo me è stato sia merito loro che merito nostro, perché loro hanno dei buoni giocatori, abbiamo visto che hanno dei buoni tiratori, sono presi molti tiri e li hanno anche messi, quindi merito loro. Da parte nostra magari non c'è stata sempre la massima disattenzione difensiva, magari delle volte dei cambi non sono funzionati al massimo e non siamo scalati molto bene in difesa lasciando aperti dei loro tiri. Però sono convinto che nonostante queste disattenzioni che abbiamo fatto una buona partita. Certo ci sono dei demeriti nostri perché se Mario non avessimo fatto questi piccoli errori potevamo vincere anche di molti più punti. L'atteggiamento è sempre quello di vincere tutte le partite, non importa chi è l'avversario, non importa dove si gioca, l'idea deve essere sempre quella di entrare in campo per vincere. Adesso aspetto la traspetta di Reggio, loro sono ovviamente una squadra molto tosta, però adesso la squadra è in fiducia, ha il giusto affeggiamento, quindi va a Reggio con l'idea di poter dare il massimo. Adesso è veramente tutto nelle nostre mani perché abbiamo raggiunto la nostra postazione nei playoff e dipende da noi mantenerla. Ed è tutto nelle nostre mani perché ci siamo e dobbiamo mantenere questo posto nei playoff. L'idea è quella di andare a Reggio, fare la nostra partita e poi vedere dove siamo dopo quella partita e affrontare Brescia. Io ho sempre pensato che il lavoro duro paga, quindi quando sono arrivato qui ho visto che l'impegno con il quale la squadra e lo staff, con il quale si affrontavano tutte le partite e anche tutti gli allenamenti e con il lavoro duro che abbiamo fatto, penso che nella mia mente ci fosse sempre stata l'idea di poter raggiungere qualcosa di bello. Perché la convinzione è tutto, sono convinto che quando si arriva sul campo quello che ti fa vincere alla fine è la mentalità. Se la mentalità è vincente ti può portare lontano, quindi sono convinto che il nostro lavoro duro stia ripagando. C'eravamo preposti di fare del nostro meglio per raggiungere i playoff e sicuramente stiamo lavorando ancora per questo obiettivo. Sì, questo per me è il primo anno qui a giocare in un campionato come questo, quindi è importantissimo per me avere dei veterani che mi circondano perché è importante per noi giovani della squadra avere dei veterani come Crosariol e come Jenkins che ci aiutano costantemente sul campo. Quindi se magari c'è qualche problema, se ho dei dubbi o se faccio un errore, sono convinto che ci saranno sempre loro che mi daranno una mano. E questo anche da parte mia, sto imparando veramente molto grazie a loro. Sicuramente è importante avere dei giocatori come Jenkins in squadra perché non è solamente quel giocatore che ti può fare 20-30 punti in una partita ma è anche quel giocatore che capisce, che sa leggere le situazioni di basket, quindi è veramente un fattore importante in campo perché capisce quello che la squadra ha bisogno in quel momento e lavora duro per farlo ottenere. Quindi non è il giocatore che magari ti mette sempre 30 punti, però è quel giocatore che ti accorgi che è in campo. Quindi veramente sono contenta di averlo qui e sono contenta che il suo lavoro sia quello di aiutare anche me in prima persona. Posso dire solamente delle parole di elogio per il nostro pubblico perché sono convinto che siano veramente eccezionali. Secondo me sono pazzi, però pazzi nel modo migliore del termine, però penso che sia importante per noi avere supporto del genere perché sono convinto che per quanto mi riguarda siano con il pubblico migliore che abbia mai avuto perché veramente ti danno una carica enorme perché non solo ci supportano quando giochiamo bene ma ci spronano anche a fare meglio quando magari giochiamo male. Quindi non è solamente supporto quando tutto va bene ma magari anche quando qualcosa non va ci spronano a fare ancora meglio. Quindi sono convinto che sia veramente un aiuto e questo si vede col fatto che abbiamo vinto quasi tutte le partite casalinghe perché possiamo vedere che anche per la squadra ospite è difficile venire a giocare qui perché lo vedete bene magari c'è il playmaker che non riesce a capire che cosa stanno dicendo, non sentano l'allenatore, non riescono a comunicare tra loro. Se fate caso quando c'è un time out della squadra avversaria sono sempre lì che cercano di capire che cosa stanno dicendo perché non riescono a sentire. Quindi sicuramente continuate così perché è veramente una cosa bellissima da proteggere un palazzetto del genere. Grazie per la visione!